Hi guys, sono lo chef Donald Scalmini del Il Mondo del Barbecue e oggi sono qui per presentarvi il Barbecue Turbo Elite 4 della Dolce Vita. Ma non perdiamo altro tempo, let's fire up! Partiamo subito dal componente che più ci sta a cuore, ovvero la griglia. Questo prodotto offre 79 x 49 cm di superficie di cottura divisa a metà tra una piastra in acciaio inox di 4 mm di spessore e delle speciali griglie sempre in acciaio a V capovolta per concentrare di più il calore dei bruciatori verso la punta e formare sul cibo quel classico righino nero che è un vero e proprio gusto barbecue. Questo barbecue è adatto per 12-14 persone e include la griglia a scaldo vivante fissa in acciaio cromato facile da rimuovere e da lavare. Diamo un'occhiata ora ai diffusori di calore e ai bruciatori, il vero cuore di questo bellissimo barbecue dal design tutto italiano. Troviamo due bruciatori in ghisa che scaldano direttamente la piastra in acciaio inox, portandola rapidamente a temperature molto elevate. Gli altri due bruciatori usano la tecnologia al quarzo radiante ad infrarossi, coperti da due vetri al quarzo che irraggiano il calore in maniera uniforme sul cibo. Questo sistema permette di trasferire il calore al cibo in modo molto più rapido ed efficace rispetto ai tradizionali bruciatori, andando a sigillare il cibo esternamente ed evitando che i liquidi ne fuoriescono, lasciando quindi la carne morbida all'interno. Inoltre si riduce notevolmente il rischio di fastidiose fiammate durante la cottura. L'accensione tramite kit piezoelettrico integrato sul manopola. In totale i quattro bruciatori raggiungono i 15,8 kilowatt di potenza. Tutti gli elementi che abbiamo visto fin qui sono raccolti in un brasciere in acciaio smaltato di elevato spessore, con garanzia di 10 anni, con i fianchi in doppio strato per migliorare l'isolamento termico. Al di sopra di esso troviamo il coperchio, con rivestimento in acciaio inox all'esterno e doppio isolamento interno in acciaio smaltato, caratterizzato da un design veramente unico, testato per resistere alle alte temperature e per mantenere al meglio il calore e l'umidità. Sul coperchio troviamo anche il termometro che indica la temperatura all'interno della camera di cottura. Alla destra troviamo un fornello laterale tradizionale di dimensioni veramente notevoli, adatto a contenere anche pentole di grandi dimensioni, con diametro fino a 36 centimetri. Questo bruciatore raggiunge i 3,7 kilowatt di potenza. Sul ripiano opposto troviamo un comodo cassetto per riporre gli attrezzi per la cottura e la possibilità di installare anche una friggitrice elettrica. Diamo un'occhiata ora alla vasca di raccolta grassi, sicuramente utile per una pulizia veloce e facile, perché ricordiamoci, dopo la grigliata c'è sempre qualcuno che deve pulire. La vasca è in acciaio smaltato, inclinata per permettere il diflusso dei grassi e rimovibile estraendola frontalmente al barbecue, così da poterla lavare tutte le volte che si vuole. L'intera struttura appoggia su un carrello molto solido, con quattro ruote con freni per facilitare lo spostamento e il trasporto del barbecue. Tramite i due sportelli in acciaio inox, con cerniere a scomparsa, si accede al vano porta-bombola. In conclusione, il Turbo Elite 4 è il top di gamma dell'azienda italiana Dolce Vita Barbecue. Ottima performance in cottura, un design accattivante e per me, it's a winner. E ricorda, light up your passion con il mondo del barbecue. L'azienda italiana Dolce Vita Barbecue. L'azienda italiana Dolce Vita Barbecue.